Andando dritto di là c'è via Caipoli che porta Gallicano nel Lazio e sulla destra ci sono un paio di forre una è quella dove passa ponte Caipoli e l'altra è quella dove c'è ponte Pischero da quest'altro lato qua c'è via colle fattore che va verso la gola dell'acqua rossa ma prima della gola dell'acqua rossa c'è questa forra che poi diventa molto molto profonda simile a quella dell'acqua rossa è quello che vorremmo verificare oggi ora andiamo a vedere delle vasche presumibilmente di epoca romana ecco qui sull'orlo della forra ci sono queste interessanti piscine non naturali artificiali presumo non so se di epoca romana o epoca più recente vedete la forra la forra del fosso della mola di pance una forra ricchissima d'acqua parallela a quella dell'acqua rossa che sta più giù già qua all'inizio c'è tutta una serie di cascate e laghetti infatti da qui da da questa zona di laghetti c'è una cascata un affluente laterale con una cascata che si getta sul fosso della mola di pance poi più a monte c'è il ninfeo della villa imperiale che una cascata alta cinque metri circondata da cunicoli idraulici romani duta dei monti prenestini monti lucretili più nord pure il soratte quindi qui avremo fatto un paio di chilometri da via di colle fattore costeggiando questa forra qui c'è il castello di corcolle e poco più avanti c'è lo stradello che scende giù verso il fiume un cinghiale mangiato da un lupo notevole laggiù cos'è l'agriturismo di corcolle il castello di corcolle il castello di corcolle che si è chiamato castello andiamo prima a vedere una cava quindi legge c'è tivoli e molto oltre c'è il fosso dell'acqua rossa qui c'è questa questa cava il castello di corcolle e lì il tratto più alto della forra del fosso di pance qui siamo scesi sul prato antistante la forra dove c'è il fiume ma abbiamo già visto che è complicatissimo scenderci infatti qui si sente il rumore di una cascata ma il pendio come vedete proprio parecchio parecchio in tendenza via un po se qui lungo questo trottatoio si riesce a scendere qui il trottatoio sembra che scende bene si sente un forte scroscio di cascata quindi andiamo a vedere di che si tratta ecco guardate la forra quanto è alta qui stiamo cercando di farci un passaggio in mezzo ai nuovi si sente uno scroscio forte stupendo dice bruno andiamo a vedere dire po va bene ok vai di nato gira lì ciao bella stradina questa bel sentiero si fatto dai cinghiali abbiamo trovato un posto molto molto bello guardate che gola noi cerchiamo un attimo di scendere meraviglia meraviglia qui siamo a monte di quel laghetto che abbiamo visto prima guardate che scroscio d'acqua che grotte laggiù fantastico fantastico la roccia sopra la roccia la roccia la roccia la roccia la roccia la roccia sto in una posizione precaria in un giorno di pioggia su uno sterone di si 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 l'ho visto l'altro lato guardate che giungla qua ci sono vari stradelli di cinghiali solo che qua il fiume diventa più calmo però più a monte si sente un'altra cascata ma ci andiamo da sopra tornati sulla striscia erbosa alla ricerca di un'altra discesa per vedere un'ulteriore cascata a monte si sente uno scoroscio proviamo a vedere quest'altra cascata proviamo a vedere quest'altra cascata ho lasciato l'aratura siamo dentro al bosco si sente il fragore di una cascata c'è modo di scendere la vieni 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 avanti così la corda ci arriviamo un po' di cascatelle ci stanno però vediamo se c'è qualcosa di più grosso qui siamo affacciati sulla forra non si sente altro che scrosci di cascate però ne sentiamo uno ancora più grosso sicuramente qui c'è qualcosa di molto molto interessante qua sotto qui ce ne stanno una marea di cascate è tutto uno scroscio solo che è veramente complicato scendere sono pochissimi passaggi ne abbiamo trovato solo uno prima ora qui non vediamo altro che rovi però lo troveremo a modo rinoltriamoci nel bosco siamo emersi dal bosco sulla radura superiore sul campo superiore quello da per quale siamo entrato di prima vediamo se più a valle cioè più a monte voglio dire c'è qualche altra discesa per andare a vedere qualche altra cascata perché di scrosci ce ne sono parecchie ma per scenderci è complicato bisognerebbe fare l'acqua trekking direttamente nel fiume che però però fondo l'acqua troppo alta per gli stivali qui riavvicinandosi a colle fattore laggiù c'è la forra dell'acqua rossa in corrispondenza del palo giallo scendendo dritti si riesce a vedere di fronte la cascata valle della sorgente dell'acqua rossa e noi entriamo qui dove c'è questo paretone di tufo a picco sul fosso di mole di pance si sentono un sacco di scrosci di cascate quando si costeggia il fiume il problema è o è da fare l'acqua trekking oppure trovare il punto giusto per scendere e qui si scende facile qui c'è un affluente del fosso di riva di pance però secco e si fa gettare nel fosso quello pieno d'acqua guardate che gola qui c'è un affluente stagionale che in teoria si dovrebbe gettare con una cascata che in questo momento è secca nel fosso sottostante qui si sentono degli scrosci sono delle cascatelle con un bel laghetto è tutto è tutto il questa piove però ragazzo mi fa vedere che c'è più valle ma poco perché qui sta piove sta avvenendo giù il diluvio quindi fra un po tocca che stanno andiamo a questa è la cascatella laterale da un brodo come la vedete questa cosa c'è una forra tutta da esplorare ecco Bruno lassù ma qui sta venendo giù il diluvio quindi è meglio che me ne vado ok un saluto ciao ciao qui siamo emersi dalla forra con la pioggia abbattente sono riuscito pure a farmi il bagno nel fiume in un giorno di pioggia a novembre inoltrato eccoci qua ok ragazzi da Duardo e Bruno un saluto in questa giornata di pioggia siamo riusciti a vedere una stupenda forra parallela a quella della forra dell'acqua rossa ciao ciao e buon fine settimana a a a a a a a A presto A presto A presto